L'emergenza coronavirus, quindi la faccio volentieri perché volevo dare il benvenuto al nostro segretario Salvini e dirvi che è stata una partita importante per noi perché sono già 111 giorni che siamo in tutti i giorni sull'emergenza coronavirus, devo dire che con Matteo ci siamo sentiti spesso fin dalle fasi iniziali di questa partita e devo dire anche, e non lo dico per piageria, che lui si è sempre costantemente informato sull'andamento delle vicende venete. Qualcuno dice è andata bene, abbiamo avuto 2000 morti, 6500 persone guarite, è stata una sfida importante, chiediamo ancora ai cittadini di seguire le indicazioni giorni perché ancora un minimo di virus, anche se poco infettante c'è, la mascherina non è un vezzo e alcune restrizioni ancora non sono la volontà di opprimere le persone ma la volontà di portare avanti un piano di sanità pubblica. Qualcuno prima, Matteo, mi chiedeva se sono qui a lanciare la campagna, non lancio nessuna campagna, vi sto considerato che le campagne si lanciano quando ci sono le date, sono davanti un governo, vi ricordo, che ha rinunciato alla sessione estiva, è un governo che ha rinunciato a permettere ai governatori di fare le elezioni nella prima fase di settembre, è un governo che ancora tutt'oggi non si è neanche messo d'accordo nel suo interno per stabilire una data delle elezioni. E dall'altro vi dico che, siccome qualcuno diceva, ma qual è il dossier aperto sulla scrivania del Presidente della Regione, ce n'è uno solo, beh c'è quello sanitario e peraltro devo dire, Matteo, lasciamelo ricordare, purtroppo siamo in apprezzione in queste ore per le vicende del punto nascita della neonatale di Verona e sapete che è stata chiusa sia la terapia intensiva neonatale sia il punto nascita e quindi l'ospedale della donna e del bambino per questa infezione ospedaliera che ha già causato dei morti, quindi delle perdite di vita umana di bimbi neonati, altri infettati con i postumi. Adesso stiamo attendendo l'esito della commissione che abbiamo nominato qualche giorno fa e considerate che noi come amministrazione regionale abbiamo saputo della notizia giovedì scorso, cioè noi non sapevamo nulla di questa vicenda. Penso che sia doveroso mettere in sicurezza i bimbi, mettere in sicurezza l'ospedale e dopo accendere la luce su tutta questa vicenda senza volontà di fare il giustizialismo ma sicuramente chiarire bene per bene cosa sia accaduto visto che il tema di un'infezione ospedaliera così importante in un reparto così delicato che quello della neonatologia non è cosa di tutti i giorni. Partendo dal presupposto che i nostri ospedali hanno una gestione sulla quale non esiniamo nello spendere per la messa di sicurezza, vogliamo capire qual è stato il motivo e quali sono state le cause e dopodiché abbiamo il doveroso, purtroppo non riusciremo più a ridare la vita a quei bimbi, ai bimbi che si sono ammalati ma sicuramente delle risposte anche sotto profilo giuridico alle famiglie che hanno subito ovviamente questi lutti e questi danni. Io non aggiungo altro. Benvenuto Matteo. Grazie Luca, ancora Matteo a te la parola. Grazie, oggi sono felice di aver incontrato e il percorso finirà domani a pranzo e quindi ancora tanti ne devo incontrare gli imprenditori, Lombardi e Veneti. A Roma in scena la passerella in una bella elegante villa, in un parco e da stamattina che io incontro imprenditori, produttori e lavoratori che chiedono soldi veri in banca, cassa integrazione pagata puntualmente, infrastrutture pensate che io vengo dalla Val Trompia, sono andato a visitare la Beretta, la fabbrica che da lavoro a 600 persone ed è fermo sui tavoli del Ministero da mesi una bretella di 7 km per collegare il polo produttivo come la Val Trompia nel Fresciano all'autostrada 4 e quindi il tema infrastrutture, il tema della piena operatività dell'aeroporto di Verona, il tema delle pedemontane, il tema della dorsale adriatica, il tema di porti, aeroporti, strade, autostrade e ferrovie assolutamente prioritario e quindi è quello che mi chiedono da stamattina, c'è una proposta della Lega sulla sospensione del codice degli appalti per il modello Genova per rilanciare opere pubbliche su cui sfidiamo Conte e il Governo a venire in aula, non in villa, in Parlamento a dire sì o no perché senza commissariamento delle opere straordinarie difficilmente si va avanti della pedemontane in Veneto e andando avanti solo e soltanto per la perseveranza di Luca della Lega e degli amministratori locali. Questo è quello che stiamo portando avanti a livello nazionale insieme a una corposa rivoluzione fiscale. A livello locale, lo dicevano i colleghi giornalisti, quando il Governo si degnerà di decidere quando i cittadini potranno andare a votare in Veneto e nelle altre regioni, io penso che qua tempo da perdere in campagna elettorale ne avremo poco perché parlano i fatti, mi permetto però di ripetere come segretario della Lega che l'autonomia era e rimane un cardine per l'amministrazione sia a livello locale che per il progetto Lega a livello nazionale, quindi chiunque voglia accostare la sua faccia e il suo simbolo a quelli di Luca e della Lega dovrà sia a livello locale che a livello nazionale firmarmi impegno perché l'autonomia diventi realtà quando torneremo al Governo, tanto al Governo ci torniamo noi fra non molto e per quello che poi riguarda i tre mesi di discussioni io ero in contatto costante con Luca e con tutti i governatori, con tanti amministratori locali, anche del Veronese, del Padovano, del Vicentino, a prescindere dai colori politici, ho sentito anche i sindaci civici o di altre liste, ringrazio tutti per l'abnegazione, leggevo curiosamente sui giornali la competizione interna fra me e Luca ma spero di avere competizione interna per i prossimi 40 anni, nel senso che se la competizione è tutta all'interno della Lega allora è una competizione sana a chi fa di più, a chi fa meglio, a chi fa più in fretta, quindi siamo una famiglia e se nella famiglia si cresce è solo una buona notizia per tutti. Quindi ci tenevo a passare, davvero una spero di fare il mio esordio, non ci sono mai stato in 47 anni di vita però mi piacerebbe esserci in questa condizione un po' particolare, a godermi insieme ai Veneti uno spettacolo all'Arena di Verona che è stata riaperta, verrà riaperta, non tanto grazie alle titubanze del governo quanto anche qua grazie all'intervento di Luca e dell'amministrazione locale, quindi conto la prossima volta, anzi tre appuntamenti, uno all'Arena, uno in fiera perché il settore fieristico sta soffrendo da matti ed è completamente dimenticato da parte del governo nazionale, per il Vinitali qualunque data sia fissata o già il tagliando l'unica realtà che non mi manca di Verona è lo stadio da cui penso di poter rimanere lontano ancora per qualche mese se non per qualche anno però non vedo l'ora di tornare alla piena operatività, non vedo l'ora di archiviare le mascherine perché con tutto rispetto per gli imprenditori veneti e italiani che si sono riconvertiti e siamo un popolo eccezionale, gente che produceva qualsiasi cosa che si è riconvertita a produrre dispositivi di protezione però non per augurare del male a loro, io non ne posso più di queste cose qua, quindi è giusto tenerle per tutto il tempo necessario, non vedo l'ora di tornare a respirare normalmente e poi chiudo con una riflessione sul turismo che riguarda Verona ma non solo Verona, il Veneto che è una delle capitali italiane del turismo, faremo battaglia questa settimana in aula, ripeto in aula e non in villa perché i provvedimenti di legge si discutono in Parlamento, non nei picnic a pagamento, alla voce turismo c'è poco e nulla e per Verona e per il Veneto è una voce fondamentale, il bonus vacanze ipotizzato dal governo è demenziale perché pensare che la maggioranza dell'anticipo del bonus vacanze sia a carico degli imprenditori e degli albergatori in un momento così difficile significa essere ignoranti come mestie, anzi ignoranti più delle mestie quindi conto di tornare a Verona con un sistema fieristico, concertistico e turistico che torni a essere l'eccellenza che era e dopo il modello Genova torneremo a parlare del modello Veneto, quindi grazie a Luca e grazie a tutti coloro che hanno reso meno grave la battaglia di questi minuti. Se ci sono domande rispondiamo volentieri, i giornalisti che vogliono fare domande però devono uscire sotto l'acqua.